È il caso di dire proprio una signora accoglienza per i profughi, ma ai bassanesi chi ci pensa? La domanda sorge spontanea dopo che la giunta Poletto ha deliberato la destinazione di una quota del fondo sociale destinata ad anziani inabili a regime di minimo vitale a favore della Onlus Casa Colori per, leggiamo il documento, il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il servizio di volontariato che i 33 profughi ospitati in città svolgeranno nei quartieri cittadini. L'assessore alla persona Erika Bertoncello parla di un'azione tecnica. Era necessario trovare della disponibilità economica in fretta per poter eventualmente poter far fronte a delle esigenze di acquisto di materiale ulteriore rispetto a quello che i quartieri hanno già a disposizione e che fosse possibile fare questi acquisti in maniera veloce. È una quota che è stata individuata per il momento sul bilancio sociale, ma che non riguarda il bilancio sociale perché è comunque una spesa di lavori pubblici e quindi è già previsto che vengano rimessi nel bilancio sociale e 500 euro che eventualmente dovessero essere utilizzati. Certo è che, azione tecnica o no, la questione ha creato subito polemica perché i residenti si sentono ancora una volta messi in secondo piano. Ma non sono soldi dati ai profughi, ma dati per acquisto di materiale che vengono utilizzati poi all'interno dei quartieri. Quindi comunque sono soldi a disposizione dei bassanesi. Quello che fa specie è che già Casa Colori riceve 35 euro a profugo dallo Stato. Perché allora il Comune deve sborsare un ulteriore contributo andando a toccare denaro dei bassanesi? Non sono soldi che servono a Casa Colori, sono soldi che servono ai quartieri per fare quelle attività di volontariato aggiuntive. Certo è che il denaro andrà, come già detto e come scritto, nero su bianco sulla delibera, impegnato con successivo provvedimento dal dirigente area seconda a favore dell'associazione Casa Colori Onlus. Grazie a tutti.